Ciao ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo video Oggi vi insegnerò come fare il root al Samsung Galaxy S2 Sempre quel telefono E con installata Android 4.1.2 Jelly Bean ufficiale italiano E beh se volete installare 4.1.2 ufficiale basta guardare tra i miei video E basta Allora per fare il root vi basterà questo file Che si chiama root.zip Che lo invieremo Vabbè che va trasferito al telefono Quindi io prenderò Lo passerò col root perché non ho voglia Eccolo qua Facciamo avanti E no Se ce la facciamo ora di sera Ok Ecco Dovrebbe spero che lo invii Ok non lo invia quindi facciamo in un altro modo Cavo USB E cavi casi classici Chi se ne strafrega del bluetooth Connesso con il video multimediale Copia Questo pc SD no 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 E vabbè ok Connettiamo Eccolo finalmente Dato che comunque non so qual è il post dove va installato In se dove in recovery andrà lo metto in entrambi le parti Si ma non qua ma In android No Mettiamolo in Alarm No Android Che è la cartella che si vede sempre Ok Ora che l'abbiamo messo E qui dopo vi dirò anche dove l'ho messo E qua possiamo chiudere Possiamo Tranquillamente staccare il telefono E passiamo dalla parte del telefono Riappoggiamo il nostro Fantastico Accordatore No non è chiaro Riappoggiamo il nostro accordatore E Con un Qualcosino Lo teniamo su Ti prego fa che sia su No Devevo metterci qualcosa dentro Olè Ora dovrebbe stare su Ok Ora è perfetto Allora E ora che abbiamo Il file nella recovery Dobbiamo Riavviare il telefono In recovery mode Per il recovery mode Volume su Tasto centrale E bottone di spegnimento Se riavviamo il telefono Non serve il bottone di spegnimento Verrà riavviato Ok Bottone centrale Tasto su Un attimo Che si riavvia Che è un po' lentino Si sta Opla Qua siamo in recovery Questa è la recovery Da qui Voi potete Tranquillamente Con Wipe data factory reset Se si vede No non si vede la mazza Beh con quello sotto Wipe data factory Allora intanto La recovery funziona Con i tasti volume Infatti se avete sto premendo Il tasto di volume Per Andare su e giù E dopo vi farò vedere Come accettare Se volete formatare il telefono Wipe data factory reset E così si formatta il telefono Però a noi serve Apply update from External storage Per confermare Diamo il tasto di accensione Track Track E E Flashiamo Scegliamo sempre Il tasto volume giù Root zip E Tasto di accensione Track Flashare Si Verifica Il pacchetto Ok Root Con Con il busybox Ok Fatto Finito Torniamo indietro Reboot System now Riavviamo E aspettiamo No Non moltissimo Si sta avviando Un secondo La solita musichetta Sta prendendo le applicazioni Come prima Ok Dai Apertura applicazioni in corsa Sta laggando Che è un piacere Ok Aperto Questo è I galaxy Sempre lo stesso telefono Ovviamente Vabbè Chi se ne frega E Ok Nessuna simile Non mi interessa Eccolo qua Il telefono è ruttato Infatti Se vedete Come potete vedere È apparsa Una nuova Applicazione Che si chiama Su per su Se noi la apriamo Lui dice Questo è il root Cioè Questa è l'applicazione Per il root Infatti Se voi provate Dopo Con altre applicazioni Che richiedono il root Come per esempio Exposed O altre applicazioni Che Entrano per esempio Nei file di sistema Lui vi chiederà Vuoi concedere il root Lui Tu Insomma Si deve dire Si o no E Se si tassi Telefono L'applicazione Entra Questo è più o meno Quello serve il root Grazie ragazzi Cioè Sta minchia E Fanculo Ok taglio Sta parte E Con questo Mi ho finito Ciao ragazzi Alla prossima Spero il video vi sia perciuto Commentate se avete problemi Grazie a tutti